Ciao a tutti e benvenuti. Dunque 18 agosto, intanto lasciatemi fare gli auguri di buon compleanno a Gianni Rivera e lasciatemi ricordare la figura di Roberto Rosato. Roberto Rosato babyface, faccia d'angelo, grande giocatore, grande stopper, Gianni Rivera giocatore di talento e di fama mondiali. Entrambi sono nati il 18 agosto 1943, stesso giorno, stesso mese, stesso anno. È un caso particolarissimo, poi sono diventati campioni d'Italia, campioni d'Europa e campioni del mondo insieme. Una cosa bellissima, una di quelle cose tipicamente rossonere assolutamente da Milan. Quindi tanti auguri a Gianni Rivera e un ricordo affettuoso, importante, significativo, alto, vibrante per Roberto Rosato. E naturalmente con un abbraccio anche a tutti i rossoneri di quella squadra, un anno facile a Sciabba Pierino Prati, che ci osservano dalla su, che ti fanno dalla su, oppure che sono ancora qua giù qui con noi. La rassegna stampa di oggi, la rassegna stampa del 18 agosto del 2021. Una rassegna stampa che per quanto riguarda il Milan non può non partire intanto dalle nostre ragazze, dalle nostre atlete. Valentina Giacinti ieri ha fatto doppietta, come faceva Pippo Inzaghi nelle prime pareti di Champions del Milan. Il Milan ha battuto 2-1 l'Otturigo e adesso attende l'Hoffenheim, l'Hoffenheim che ha battuto 1-0 le islandesi del Valura. Anche le islandesi sono brave, sono forti, per cui Milan-Hoffenheim si preannuncia come una finale del turno preliminare di Champions League molto, molto equilibrata. Io mi auguro che il Milan possa prendersi la rivincita contro le tedesche rispetto a quello che è mancato alla squadra, soprattutto in termini di gol contro la Roma, nella finale di Coppa Italia dello scorso mese di maggio e quindi speriamo bene per le nostre ragazze. Mercato, tanto mercato, mercato che viene seguito con attenzione da OneFootball, OneFootball che si appresta a diventare la casa del calcio in streaming, OneFootball sulla propria app che potete scaricare gratuitamente dalla descrizione di questo video, vi proporrà nella prossima stagione gli highlights di ben 12 campionati, fra cui la serie A italiana. Comodamente, a portata di smartphone, a portata di tablet, a portata di PC, OneFootball vi porterà nelle vostre case le immagini di tanti, tanti, tanti gol. Prima del mercato ancora uno sguardo alla rassegna stampa perché ci sono due visioni completamente diverse sulla tattica del Milan, come è giusto, come è bello che sia il pluralismo delle visioni, delle idee e delle previsioni. La Gazzetta dello Sport dice che il Milan, nonostante il 4-4-2 di Trieste, è pronto a virare sul 4-2-3-1 a Genova con Salemekers, Braindiat, Leao e Giroud. Questa è la previsione che fa la collega Alessandra Bocci sulla Gazzetta dello Sport, nonostante, aggiunge la Bocci, il Milan abbia provato giustamente, Pioli abbia provato giustamente, Leao esterno a sinistra nel 4-4-2 contro il Palatinecos. Il Corriere dello Sport invece la vede diversamente, il modulo giusto per il Milan è 4-4-2, non il 4-2-3-1. Per la verità il Corriere dello Sport fa un pezzo più di prospettiva, dice in chiave Ibra Giroud, Ibra evidentemente non ci sarà a Genova con la Sampdoria, quindi ne fa una questione più di stagione il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport invece ne fa una questione della prossima partita, la partita ufficiale di campionato, l'esordio Amarassi contro la Sampdoria. Però insomma tra 4-2-3-1 e 4-4-2 è un po' derby, fra due grandi quotidiani sportivi come la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport. Poi mercato, mi ha colpito il riferimento che hanno fatto ieri sera Sky e Gianluca Di Marzio e questa mattina la Gazzetta su Bakayoko, Bakayoko che è rimasto un po' sotto traccia per tutto il mercato, sembrava fosse stato proposto dal Chelsea al Napoli, succedono tante cose strane nel mercato mediatico di questa stagione, sembra che il Milan sia su Adli invece spunta Bakayoko, sembra che Bakayoko venga offerto dal Chelsea a Napoli invece torna in orbita a Milan, sembra che ci siano altre offerte anche dal campionato francese e invece viene riproposto in chiave rossonera, vedremo, guardate non ci resta che aspettare, il 18 agosto non manca molto, siamo tutti in palpitante attese evidentemente, siamo tutti in gioco con le nostre emozioni anche durante il mercato e ogni pop-up per quanto riguarda le notizie di mercato della squadra è come l'azione di una partita, quindi la viviamo tutti allo stesso modo, non ci resta che attendere, io onestamente fare quello che sa tutto quando non sa nulla non lo faccio, per cui ragazzi aspettiamo, c'è un dossier Florenzi aperto, un dossier Adli aperto, un dossier Bakayoko aperto, il procuratore di Blasic ieri ha detto che è stato offerto un po' a tutte le società italiane per cui non c'è una preminenza a Milan nella vicenda Blasic e CSK a Mosca, per cui mi sembra francamente piuttosto lontano, mentre il Corriere della Sera scrive che ZIEC non è più un obiettivo del Milano, il Corriere della Sera scrive che il rinnovo di che si è lontano e che CSI potrebbe iniziare il campionato senza il rinnovo contrattuale. Ora, tutti noi anche qui facciamo il tifo per il rinnovo di CSI, non ci siamo mai nascosti dietro un dito, però mi sembra la stessa cosa di Ibra con la Sampdoria, avevamo messo un po' in preventivo che Ibra non ci sarebbe stato con la Sampdoria, ricorderete allarme Ibra non c'è a Genova, l'avevamo messo abbastanza in preventivo che non ci sarebbe stato a Genova, Zlatan e che CSI possa anche iniziare la stagione senza rinnovo contrattuale fa parte del novero delle cose, l'importante è che il dialogo prosegua e che ci sia la volontà di CSI di rimanere al Milan come ha dichiarato a fine luglio quando era ancora alle Olimpiadi con la Costa d'Avorio e da parte del Milan di avere CSI, Milan che ha alzato sensibilmente l'offerta per Frank così come testimoniano tutti i cronisti che si occupano di calcio mercato, per cui non ci resta da questo punto di vista che attendere. E' chiaro che il mercato non è fatto soltanto di attese, deve essere fatto poi anche e soprattutto di firme e di annunci, però si sta parlando di soldi seri, di soldi veri, si sta parlando di un Milan che ha già investito moltissimo in questo mercato e che sta cercando di contemperare la situazione tecnica con quella economica, come abbiamo sempre cercato di dirci, quindi non c'è un primato, anche se la squadra è sempre al primo posto, però non c'è un primato sulle follie di mercato per rafforzare tecnicamente la squadra sulla parte economica e la parte economica deve cercare di trovare le soluzioni giuste, di far quadrare i numeri per mettere a disposizione Stefano Pioli, i giocatori giusti, la rosa giusta, l'organico giusto, vedremo. Per quanto riguarda Florenzi, ieri i colleghi di Milan News avevano già iniziato la diretta che sembrava quella contrasenata di rosso, che sembrava propedeutica al viaggio proprio da Roma a Milano di Florenzi, invece tra un po' di... qualcuno ieri sera l'ha interpretato come stallo, questa mattina la Gazzetta dello Sport scrive che nella notte sembra esserci stato un riavvicinamento, insomma vedremo. Io non so se il prestito oneroso comporta, come si diceva ieri sera, un'offerta di 500 mila Euro Milan e una richiesta a un milione di Euro Roma, oppure un'offerta di un milione di Euro Milan e una richiesta di un milione 500 mila Euro Roma, non lo so. Si fanno entrambe le ipotesi nel mare magno del mercato, non lo so e attendo. So che c'è un ragazzo che ha una voglia pazza di venire a giocare con noi, un ragazzo che l'anno scorso è stato nella squadra dei Globethorters di Parigi, ad alto livello, giocando 20 partite dall'inizio in Ligue 1 e 10 partite dall'inizio in Champions League con la maglia del Pesce, che quest'anno è entrato anche in campo nel secondo tempo supplementare la finale dell'Europeo contro l'Inghilterra, dopo che nei voti, nella programmazione di Roberto Mancini doveva essere il titolare della Nazionale Azzurra, perché in Italia Turchia parte lui titolare, poi fastidio al Polpaccio. Per la verità Florenzi era pronto anche prima della finale fra Italia e Inghilterra, ma ci fu poi la scelta tecnica di Roberto Mancini di non alterare gli equilibri della squadra che si erano consolidati con Di Lorenzo Cammin facendo. Però stiamo parlando di un ragazzo che ha una voglia pazza di venire da noi e anche se è giusto discutere di ogni numero e di ogni cifra in ogni trattativa di mercato, la speranza che possa arrivare continua ad esserci. Speriamo bene e ci ritroviamo nel corso di